Il mio nome è Lorenzo, sono 26 e sono un ingegnero industriale e industriale. Ho ricevuto tanto il mio bacio e il mio bacio in Politecnico di Turin. Ho iniziato il Comao nel 2013 per la seconda edizione del Comao Master in Industria Automazione. E ora ho lavorato come un specialista di compagno. Ci sono tre aspetti di questa unica e intensa esperienza che vorrei riferire. Prima di tutto, la struttura innovativa del Master, che mixa una combinazione utile tra l'Eso San Politecnico e l'esperienza di lavoro praticante. Durante le classi, abbiamo avuto diversi tipi riguardanti l'industria e l'industria automazione, tanto dal punto di vista tecnico e managerial. Secondo, l'environment multiculturale e internazionale in cui il Master si tratta. In effetti, siamo costantemente in contatto con altri nuovi ingegneri, con diversi backgroundi e veniamo da diversi paesi, come la Cina e la Romania. Abbiamo la possibilità di rinforzare il nostro background culturale e migliorare le nostre attività interpersonali, grazie a diversi attività di gruppi e team. L'ultimo, ma non l'ultimo, la struttura. Comao è una struttura globale che opera in più di 13 paesi del mondo e è molto interessante perché combina l'aspetto globale di lavorare in diversi settori di business con un grande range di prodotti e processi. Inoltre, funziona su progetti molto complessi e innovativi. Questo fa necessario avere una interazione continuata con colleghi di tutto il mondo e anche per fare un'attività effettiva di team, in order to achieve the expected results. Il Comao Master in Industrial Automation ci ha dato la possibilità e la possibilità di giocare un role attivo in questo sviluppo di ambiente e di profondità dentro del business Comao. Grazie a tutti.